Ciao, bentornati al programma televisivo di oggi trasmesso da spettacoli televisivi con notizie come Mentre i gossip sulla rottura tra Stefano De Martino e Belen Rodriguez continuano ad imperversare, il conduttore si tiene lontano dai social. Che fine ha fatto? Stefano De Martino e Belen Rodriguez sono tornati ad occupare le prime pagine delle riviste di gossip Da diverse settimane si stava già vociferando sulla loro presunta rottura e, in seguito ad alcuni recenti avvenimenti, sembrerebbe essere arrivata la conferma Ma mentre l'ex conduttrice delle Iene lancia frecciatine su Instagram, De Martino si tiene lontano dai social Preferendo mantenere il silenzio Un silenzio che, tuttavia, ha attirato parecchio l'attenzione dei fan Il ballerino e conduttore che negli ultimi anni si è guadagnato una notevole popolarità al timone di stasera Tutto è possibile e Bar Stella è sempre molto attivo online Eppure in questi giorni sembrerebbe essersi preso una pausa dai post Una settimana fa Stefano è partito alla volta di Disneyland Paris insieme al piccolo Santiago Per godersi una vacanza padre e figlio Il conduttore si è poi messo in viaggio per la Sardegna Dove sta soggiornando al momento Il suo incontro con Cecilia Rodriguez e il compagno Ignazio Moser è diventato presto virale In molti, infatti, si chiedono se la rottura con Belen sia già stata archiviata Stefano De Martino e Belen Rodriguez Storia di un amore, tormentato Questa non è, di certo, la prima volta che Stefano De Martino e Belen Rodriguez finiscono al centro della cronaca rosa La loro storia è, da sempre, caratterizzata da diversi alti e bassi Ai quali fino ad ora hanno saputo come fare fronte lasciando trionfare il loro amore I due si sono conosciuti dietro le quinte di Amici Il talent show che ha fatto da trampolino di lancio al ballerino di origine napoletana La scintilla è scoppiata con grande impeto Tanto da spingerli a tradire i loro rispettivi partner Belen, all'epoca, era impegnata in una relazione con Fabrizio Corona Mentre Stefano era fidanzato con Emma Marrone Il loro amore è stato coronato, dieci anni fa, dalla nascita di Santiago Qualche mese più tardi, sono convolati a nozze Da allora sono andati incontro a diversi, tira e molla Nel 2021 Belen, è diventata mamma per la seconda volta di Luna Marie Nata dalla sua relazione con Antonino Spinalbese Un anno dopo, la conduttrice è tornata insieme a De Martino La coppia è apparsa affiatata ed unita per diversi mesi Prima di ricominciare a far parlare di sé Le ipotesi sull'ennesima rottura Le voci sulla loro ennesima rottura hanno iniziato a diffondersi diverse settimane fa e Ora, sembrerebbe essere arrivata la conferma Sui motivi che li avrebbero portati a porre fine al loro rapporto si è detto di tutto Inizialmente la Rodriguez è stata accusata di tradimento Per via della diffusione di alcune immagini che la ritraevano in compagnia dell'imprenditore Elio Lorenzoni A detta dei conoscenti di entrambi, però, con quest'ultimo ci sarebbe solo un'amicizia A finire nel mirino degli utenti è stato poi De Martino Il conduttore, secondo altri rumors, non sarebbe stato fedele alla moglie e avrebbe avuto un flirt con un'altra collega Alessia Marcuzzi, la quale non ha esitato un attimo a dire la sua al riguardo Escono notizie assurde Chi lavora con me mi proibisce di rispondere Sono passionale Ha affermato il volto di Bumerissima nel corso di una recente intervista alla Repubblica La Marcuzzi ha aggiunto che ritrovarsi coinvolta in pettegolezzi simili la ferisce molto Insomma, intorno alla separazione di Belen e Stefano si è creato un vero giallo e sui social gli utenti sono costantemente alla ricerca di indizi La conduttrice negli scorsi giorni ha lanciato quella che in tantissimi vedono come una frecciatina Che andrebbe a confermare l'ipotesi di tradimento da parte del marito E io lo sapevo già, tu sorridi sempre cancelletto il sesto senso delle donne, ha scritto nella didascalia di uno dei suoi ultimi post Mentre De Martino, al contrario, preferisce mantenere il silenzio sulla faccenda Il silenzio del conduttore attira l'attenzione dei social Su Instagram il ballerino si limita a mostrarsi durante le sue vacanze all'insegna di sole, mare, divertimento e relax Stefano non si è voluto esporre sui social e la sua attività sembrerebbe addirittura essersi ridotta Per più di una settimana, infatti, non ha condiviso nemmeno un post facendo preoccupare i fan Recentemente è tornato con un carosello di foto e video del suo soggiorno in Sardegna I commenti degli utenti non hanno tardato ad arrivare e in moltissimi non hanno potuto fare a meno di puntare il dito contro il conduttore Sottolineando la sua lontananza da Belen e Santiago Che delusione che sei, ora che hai raggiunto il successo non te ne frega più niente della famiglia? Sei un irrequieto, ha affermato un utente, al quale in molti hanno fatto eco Non sono mancate le risposte dei fan di De Martino, sempre pronti a prendere le sue difese Ad ogni modo, per il momento nulla è sicuro, e sono tante le voci che si stanno rincorrendo in questi giorni Tra cui figura l'accusa a Stefano di Fabrizio Corona Secondo il quale il conduttore avrebbe tradito la moglie con più di un amante Grazie a tutti coloro che hanno guardato il video Premi il pulsante mi piace e commenta Per ricevere le ultime notizie e supportare il canale con il pulsante iscriviti al canale Grazie a tutti